Che non dovremo mai dimenticare, vogliate scusarci se non saremo molto bravi in tutto ciò che man mano vi presenteremo. Apprezzate il nostro impegno e in cambio vi chiediamo un po' di silenzio e di attenzione. I bambini delle classi prime apriranno il nostro programma con un'allegra mancetta di Natale. Ascoltate! I bambini delle classi prime apriranno il nostro programma con un'allegra mancetta di Natale. I bambini delle classi prime apriranno il nostro programma con un'allegra mancetta di Natale. E la neve è tutta bianca, ha il zucchero finato, su e tu e il cortile. Oltre un bel dentro un peccine, ha le mance tutte rosse, che le grida e i sorrisci, la macchetta di Natale. E saluta con la neve, questo donno tanto bello, e questo donno tanto atteso. Oltre un bel dentro un peccine, ha le mance tutte rosse, che le mance tutte rosse, la macchetta di Natale. E saluta con la neve, questo donno tanto bello, questo donno tanto atteso. Oltre un bel da la macchetta, è più bella di una sciama. Saluta con la neve, alla finestra, e sorridono felici. Adesso i bambini di prima piano piano andranno, ognuno dalla propria mamma. Ora il bambino o la bambina rimarrà con la propria insegnante. Un po' di calma. Un po' di calma. Un po' di calma. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.